Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, si sta avvicinando San Valentino, stiamo tutte pensando a come realizzare un make up un po' particolare che sia scintillante e sicuramente adatto per questa giornata quindi io vi voglio far vedere la collezione di Kiko pensata specificatamente per San Valentino, è molto carina, mi è piaciuta e quindi vi faccio vedere tutti i prodotti che si trovano all'interno di questa collezione che pone l'attenzione sulle labbra senza però trascurare viso e sguardo partiamo proprio dallo sguardo con una palette di ombretti che comprende 9 cialde con delle nuance calde ed eleganti, ombretti matt e metallizzati, super luminosi, pigmentati, scriventi e sfumabili poi un eyeliner e mascara 2 in 1 extra black, matita e eyeliner scorrevole e morbida e super precisa, mascara denso e cremoso con uno scovolino a clessidra per infoltire le ciglia uno scrub labbra e sfogliante delicato con una texture morbida rosa arricchito con micro cristalli per eliminare cellule morte e per ottenere labbra lisce e morbidissime balsamo labbra idratante profumato al pompelmo, il pack decorato con delle bellissime labbra e lo stick è super scintillante rossetto liquido, finish matte ultra vellutato, texture studiata per risultare cremosa e scorrevole e abbiamo 6 tonalità nude pesca, rosa scuro caldo, rosso scarlatto, rosa fragola intenso, magenta, nude legno di rosa rossetto con stick a cuori e pack con le labbra disegnate, un pochino in rilievo una texture corposa e morbida, payoff pieno, colore uniforme, finish semi lucido e luminoso in tre tonalità nude rosato caldo, rosso puro, marrone cioccolato intenso poi Kiko propone un bellissimo kit per le labbra che comprende il balsamo labbra e il rossetto liquido opaco effetto velluto e ci sono due tonalità disponibili un blush cotto due in uno con un pack a cuore con lo specchietto per dare una luminosità e colore un mix di finish perlato e opaco per dare al viso un effetto radioso con intensità modulabile la formula cotta lo fa risultare impalpabile e setoso sulla pelle e abbiamo due tonalità rosa baby opaco e rosa dorato perlescente e poi rosa corallo intenso e bronzo luminoso dai riflessi rosati illuminante cotto due in uno contenuto in un cofanetto rosa il nuovo illuminante bicolore dalla texture leggera come seta finish perlato, illumina il viso per dargli un aspetto sensuale tonalità oro e oro rosa, rosa chiaro e rosa malva ultimo prodotto l'acqua profumata calda frizzante con note di cannella, bergamotto e fiori bianchi con un po' di vaniglia, caramello, legno e ambra questa è la collezione di Kiko che si chiama attrazione magnetica io lo dico in italiano anche se è scritto in inglese ma comunque significa che questa collezione ha lo scopo di attrarre magneticamente la vostra dolce metà io vi invito a farmi sapere nei commenti se avete acquistato qualcosa di questa collezione iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto io vi mando un bacio enorme